Sono Mario, responsabile del Cenacolo Regina degli Aposti di Genova, di cui mia moglie Andreina è segretaria. Faccio una piccola premessa. Quando il nostro Cenacolo si è costituito, il 2 dicembre 2011, dopo un incontro delle Mille Avemarie con padre Silvano a Genova, nostra figlia Elena aveva appena deciso di seguire il percorso per diventare suora nella congregazione Piccola Opera Regina degli Apostoli, che è a servizio dei sacerdoti. Così alcuni membri del nostro nuovo Cenacolo, hanno proposto di dargli come nome appunto Regina degli Apostoli. Poco dopo, Maria, nei messaggi del 2 del mese, ha iniziato a chiamarci insistentemente Apostoli miei e tutti abbiamo pensato che fosse una conferma della sua benedizione. In questi nove anni si sono fortificate in parallelo la preghiera del Cenacolo e la vocazione di nostra figlia, che ha perseverato con coraggio e con gioia nel suo sito tale al Signore per i sacerdoti. Sabato 22 maggio, vigilia di Pentecoste, in cui la Chiesa festeggia Maria Regina degli Apostoli, Elena, assieme a una consorella, prenderà i voti perpetui. Da molto tempo il nostro Cenacolo prega alternativamente per l'apertura dei cuori dei sacerdoti e delle famiglie della Diocesi di Genova. Perciò consideriamo la professione di sorella un doppio germoglio di grazia. Per le famiglie, perché una figlia consacrata è un immenso dono. Per i sacerdoti, perché lei e le sue consorelle dedicano la loro vita alla santificazione dei sacerdoti e aiutano concretamente i sacerdoti della Diocesi di Genova. Grazie Maria, attraverso di te accadono in trecci meravigliosi.